la leggenda narra come un tipo artefatto benvenuti in questa nuova puntata del grande gazzesepi gioca schoolgirls io sono jojo e l'altro è un vikingo nautico ma come nautico addirittura voglio il terzo di questo voglio il terzo no noi abbiamo il secondo anche perché è uscito questo quindi io ne voglio un altro io è da un po' che non ci gioco e non so se è uscito il terzo visto che è uscito il secondo allora facciamo due personaggi mediamente forti va bene cervella a me piace un casino elisa quindi scende elisa inoltre io nel primo gioco giocavo con valentine quindi vado per valentine io prendo queste che sembrano le più carine che è serabella e parasol si perché serabella che c'ha tipo le braccia enormi e il cappello e vabbè ma il cappello che vuol dire che c'ha le braccia no perché perché mi ricorda azione mia vaffanculo ti han disossato si praticamente io sono una tipa un po' dell'egitto no quindi tutte le mie mosse sono relativamente oh ho delle ali da scarabello aspetta voglio vado anch'io è bellissimo vado via ho detto che se ne deve andare lei no vaffanculo ah 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 comunque è molto figo sto gioco molto c'è le animazioni sono fatte veramente fighe quando viene colpito è così cartoon c'è no a me piace ma chissà quanti cazzo di fotogrammi sono il secondo è infatti è questo che mi piace oh oh vabbè l'ho messo lì c'è che cazzo tutti i giochi versi tipo i picchiaduro anime di questo tipo sono tutti disegnati a mano sono tutti no disegnati non a mano sono sempre al computer però nel senso sono tutti seri e c'è alla fine blaze blue guilty gear sono tutti invece è bello vedere comunque un gioco fatto ah merda mi hai ucciso la faraona era la mia preferita stronza muori no no t'ho avvelenato parasol lascialo andare c'è già andato da dio vabbè dannato ninja infermiera ninja è un infermiera joy ninja joy pure è vero il cappello no non deve morire non è tardi probabilmente ti ho lanciato fuori dall'arena spalla fai qualcosa con quale ombrella dannazione torna indietro torna indietro perché non si torna indietro ho avvelenato cervella 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 vai anestesia oh ok vaffanculo vaffanculo ehi ma mi si è curata la tipa non credo ah no era la tua stavo guardando la tua la tua vita ah merda tu mi colpisci mi uccidi un casino mi togli un sacco di vita vaffanculo perché ti tolgo così poca vita io non lo so perché tu stavi parlando e io stavo prendendo sopra me si vaffanculo vaffanculo ok anche perché mi piacciono questi personaggi e penso che non li sceglierai altri ma io voglio un serpentone mutante che cazzo era chi? c'è un serpentone mutante ah si? si ouch ouch dannato scheletro vai via non è che mi togli di più perché sono tipo in versione scheletro scorticato ah non lo so io ho scoperto come si chiamano quelle spade che hanno gli egizi è vero? questa qua com'è che si chiama? ehm coufe o qualcosa del genere che il nome del cazzo non mi piace si è abbastanza il nome del cazzo vada via lei è una bellissima donna ma se ne deve andare vada via per favore vaffanculo tu mi tieni sempre a distanza faccia di merda vai ma io ero venenato perchè tu riesci a uccidere tutte le mie combo aia eh mei coglioni altro che mei coglioni salve aah vai aah valentine è figa da usare cioè è molto veloce è molto figa ouch però non sono capace a pararmi io vado a casa su vaffanculo cristian ma fa culo che c'è? niente che sei una faccia di merda anche no è vero è vero cioè guarda quanto cazzo mi togli aah cioè non è possibile che i tuoi personaggi siano così sgravi e chi te lo dice sono belle tipe che ci siano dei personaggi più sgravi degli altri è ovvio ah anche quello è ovvio si però c'è dai ma fa culo vuoi usare i miei? prego no non voglio usare i tuoi voglio usarne altri io devo usare quel serpentello curioso chi è il serpentello curioso? ma che cazzo? double va bene pain wheel peacock kazuya boh a questo punto dato che ci siamo con i serpenti metto anche l'altro serpentine si metto anche l'altro serpentine ok chi è l'altro personaggio che posso usare? posso usare questo? posso usare squiggly? prendi quello con la cosa sulla schiena io uso questo è una cosa enorme BIG BAND bello cazzo cos'è perché è una band in un solo personaggio? in un solo personaggio? ma si probabilmente cosa che abbiamo messo? tu chi è che hai scelto squiggly? un serpente coso e poi e squiggly si ok ah è una suora ero una suora wow figo io invece sono un personaggio disney ma è bellissimo come hai fatto? non lo so no tu lo sai bastardo no non lo so io sto premendo tasti a casa ma davvero sono così tanto mutante wow 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 attacchi questa ah è una specie di mokujin il mio si vedi wow è un cambiafoca io sono enorme è bellissimo però inoltre tu mi stai facendo un culo tantissimo wow wow ma fa culo ma fa culo è un personaggio disney è bellissimo nooo mi ha massacrato grande guardami guardami che swagger ma che bastardo sembra un personaggio uscito da steaming universe per quanto per quanto mi riguarda bellissimo comunque wiii ah ouch mi è già morto un personaggio non l'ho parito niente mi sono sbaglio o mi sono si mi teletrasporto vicino a te ouch ah ah ouch ouch ah ah vai vai ouch vai big band aah ok non so che cosa ho fatto mi hai spaventato ma quello sempre dannato uomo trombone uomo trombone aah me l'hai strodita aah aah boom che cazzarola ma no ma non è giusto ho anche rimbalzato posso farci le super combo ooooo è una copiata vincente questa la suona è un mutante la suona è figa mi piace a me no perché non ho capito niente delle mosse che stavo usando no quello è vero sempre due personaggi si allora che possiamo che cazzo che cazzo succede in miss fortune perchè? si stacca la testa cazzo è vero si è staccata la testa ok proviamola però no aspetta e usa il fortune vediamo i veri veri oh carino questo colore ehm pain whale non mi piace big band è carino eeeh fuca bewolf eeeh cioè siamo in un gioco che si chiama schoolgirls e mettiamo ecco rendiamola una schoolgirl roma nooo facciamo hurting girl e l'arena che sceglierei io stavolta va bene eeeh prima è andata casuale comunque io c'ho il tuo alter mi sembra tu hai scelto il mio stesso? si no hai scelto ma è alternativo r air fortune ah si? si è un altro personaggio miss fortune e air fortune ah è lei robotica che cazzo? va bene cos'è una specie di cosa tipo subzero cheeeeh viene catturato che diventa cyborg zero ah vaffanculo sei robotica wow quindi io sono mezzo lupo letteralmente bewolf inoltre tu sei una rottura di coglioni perchè io sono lento cosa ho fatto? aspetta un attimo un attimo solo un attimo solo creep no c'è veramente sono adorabile ma che cazzo? sono adorabile aaaaaa sono un aaaaaa come fai a fare schiacciuta l'attacco in porca miseria? vedi che lo stai facendo anche tu? si ma non ho fatto niente probabilmente ti sei potenziato ok? aaaaaa stupida pain wheel di merda oh no la mia testa ma che cazzo? la mia testa come la recupero? ahahahah ahahahahah dai stavo parendo la tua te- boh è rimasta lì la tua testa la mia testa è lì ma non è che che te la ti fai male cioè mi fai male se vuoi che pomme attaccarla? no io voglio cercare di recuperarla la mia testa no 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 hai rotto i coglioni non posso recuperare la mia testa woooo get wrecked get wrecked mi piace anche miss fortune è figa è veloce si io non voglio dire niente di her fortune perchè è veramente sgrava è sgrava? si si in effetti mi hai un po' fatto il culo da finora ma che cazzo? ah grazie la mia testa smettila di colpire la mia testa ma tu pianta la di colpire il mio personaggio qui c'è una sedia nooo dai 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 au la mia testa io continuo a cambiare i personaggi perchè che bastardo che succeda qualcosa e infatti succede sono un wrestler a quanto pare nooo nooo bellissimo altri personaggi oh io ho fatto play ah hai fatto play again ah però ok vince il primo che sceglie ah no tu usi i stessi personaggi forse no anche tu puoi cambiare no io intendo te prima di se lei ok puoi scegliere un'altra chi non abbiamo ancora usata allora io uso lei quindi tu hai usato art fortune viewwolf ah tu usi fuca ehm io vado di filia io vado di filia uso la suora usa la suora ah no tu usi filia e io uso fuca non so chi è ma ci manca sempre qualcuno per noi ok usiamo questo vestito qua eeeh eeeh va bene io uso il big boy pinwheel l'hai usata te giusto si perchè usi big band boh così ma fa il culo mettiti la suora che non si capisce niente mi farei il culo dai usiamo la suora dov'è? è quella quali altri colori ci sono? ah mi piace così non mi piace così a me piace di più così strada della nuova meridiana eh? una cazza che si chiama lì tra la got vabbè fa niente wow sono il tuo il tuo sosia no perchè ovviamente qualsiasi gioco anime deve avere un sosia arrivo au inoltre praticamente l'unica cosa che so di questo gioco è la storia di filia che praticamente quello che ha in testa nei suoi capelli è una specie di parassita tipo un venom che figato vabbè però lo governo ecco ma vai a capire quella suola lì cosa cinta in teoria uso un po' parasol un po' gli altri personaggi e di ora uso la super di ma non è giusto ti ho ucciso ma non poco direi oh quanto è obeso ed è stato preso così si t'ho preso io con i capelli si sex on off sex on off non lo so sex on off non lo so sex on off au ouch 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 vaffanculo aha sono una massa informe questo è sta trombetta vai wow non lo so ma mi piace un casino sto sex on off sto cosa explosion beez dr bese un colpe so merto that's a wrap ok sono un mistri bella facciamo un ultima vabbè però con un solo personaggio molto potente ok quindi facciamo un solo personaggio Eeeh Scegliamo la nuova Cervella Chiudo di cervella Sì E io uso Eliza di nuovo Mi piace con Con la pelle scura E il vestito rosso Eliza Oh io devo vedere gli altri M-M-M-O arena Sì Va bene M-M-M-O M-M-M-M-M-M-M-O Forza Sì è molto figa Ti spaventi quando ti metti il cappello Sì è probabile Vai Oh Ma sì Ancora fa Madonna se mi stai facendo il culo Porca troia Se cervella è forte Ouch Cervella Cosa Io non son fatta Per andare contro di lei Vieni qui No Mi sono sciolto Ma come ma c'è anche C'è un round 2 Sì perché siamo in uno solo Excuse me Vai 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 Super combo Dannato scheletro Grande Aspetta voglio fare il trullone Oh Non lo so che ho fatto Hai fetta una momento in super moss E' una di quelle cose che ti fanno rembalzare All'angolo dell'arena Così puoi fare ancora un combo Ok dai 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 Ah, dannati uomini egizi! Che figate, c'è uno scudo? O è una tomba quella che ho usato? No, il mio è uno scudo. Ah, buonanotte. Cervella! Cervella vince. Ah no, cerebella comunque, c'era bella. Va bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto il gioco. A me non è piaciuto. Alla prossima puntata! Alla prossima!